Ciao creatura, io sono Eccati Splendente e benvenuta, bentornata, nel regno di Guzai, A-S-M-A. Non ho tanta fame, però siccome sono a casa da sola e posso fare un mukbang alla faccia, e mi avete chiesto un mukbang. Ho fatto una sorta di hamburger, però con il pane da toast, con maionese, insalata, insalata mista, hamburger di carne e di bovino, sottiletta. E poi andrò a metterci la salsa barbecue che ho così terminato, poi andiamo a chiudere e la mangerò così semplicemente, senza nient'altro. Quindi penso avrò anche un video breve. Questa è la salsa barbecue che avevo preso a Lidl, della marca McKennedy. Barbecue è classica. La salsa barbecue è la mia preferita, però di questa marca, non so. Suono orribile, non ce n'è tantissimo, però così l'ho finita e basta, poi posso buttarla via. C'era anche di diversi gusti, mi ricordo, tipo quella honey, honey, tipo dolce, quella tipo al whisky. Le ho provate tutte, però la più buona resta quella classica, anche se è di questa marca, troppo dolce. Anche quella classica è troppo dolce, figurati quella al miele. Lo taglio a metà, tipo sandwich, lo mangio così. Dai, lo taglio a metà, tipo sandwich. Ma sì. Ho avuto delle domande che mi sono state fatte nel mukbang precedente, quello della pizza. Quindi andrò a leggerle in questo video e cercare di rispondere. Cioè. Hai mai fatto un burger toast come questo? Solitamente ci metto anche altre cose, però non avendo tanta fame non ho voluto esagerare. E' un misto di un tos stramezzino sandwich, è un sandwich, sì. Tipo un burger sandwich, una cosa speciale. Non ho scattato il pane. Non ho scattato il pane. Allora, domande. delle domande così allora a che età il primo bacio? ho 14 anni un bacio che sia bacio tipo con la lingua ecco non baci cioè un bacio serio diciamo a un ragazzo 14 anni 15 anni una ragazza metto qua mi chiedono vorresti dei figli in futuro non mi sembra una domanda carina da fare poi attiva o passiva? in che senso? dipende da cosa si intende se si intende in senso sessuale sono entrambe le cose se si intende nella vita cioè tipo sono una persona pigra si quindi sarei più passiva probabilmente però boh sono versatile ecco diciamo così hai marinato la scuola? si un sacco di volte ecco da cosa ti vestirei questo Halloween? mi offendi è insomma però Natale l'osa ti vesti E allora . . . . Grazie e il pane non fa su beviamo un po' di acqua fresca aspetta col mignonino tirato su rito perchè col microfono sento tutti i suoni che faccio amplificati quindi sembro una che fa casino quando mangio in realtà no però così è tutto amplificato mi fa rito allora cosa pensi della malattia mentale un po' generica come domanda però come tutte le malattie sono cose brutte come chiedere cosa pensi dell'influenza non è che dico se dobbiamo ammalarci urrei penso che sfiga che chi se la becca è sfigato nel senso a sofferire quindi è una roba brutta lo dovrei pensare ok sono misanto un po' però adesso fino a un certo limite ecco c'è un bruscio fastidioso fuori scommetto che sono i vicini e mi si sta muovendo tutto si io sto mangiando rovescio guarda scommetto che vuoi scommetto che vuoi insalata iceberg che è perfetta per i mukbang smr perché scrocchia e crunchy non mi piaccio fa dei strani suoni comunque hai mai fatto il test delle 12 personalità? credo di non averlo mai fatto o si? forse l'ho fatto adesso si credo di averlo fatto ma non mi ricordo non mi ricordo il risultato comunque ho fatto un sacco di testo dai psicologi e dai psichiatri io adoro fare i test adoro fare anche i sondaggi vabbè dettagli ti piacerebbe visitare i posti abbandonati? sì però con la compagnia giusta ti piacciono i film horror? sì mi piacciono i film horror non ti so dire i preferiti al momento ti sarebbe piaciuto frequentare l'università? sì sì quale indirizzo avresti scelto? sì avrei scelto qualche indirizzo tipo che ha a che fare col design sì qualcosa col design mi sarebbe piaciuto sai risolvere il cubo di rubik? no non ci sono mai riuscita a parte che non ci ho provato così tanto ci ho già provato da piccola quando andava di moda ma da piccola ero più speciale di adesso quindi dovrei riprovarci forse però non ci sono mai riuscita mia sorella ci riusciva ovviamente ovviamente giustamente mi telefono adesso finché sto facendo un video e poi finché sto pranzando perché mi ha soggiorno i 20 e sto facendo un video mi chiamano adesso giustamente deve essere proprio urgente perché so chi è che mi ha chiamato per dimmi delle cazzate con me hai qualche feticismo? la barba porno barba la barba la barba di le vi ultimo pezzo ce lo devo fare mi sento strappi mi sento strappi mi sento strappi ho visto il video di una persona che non nomino perché non voglio che pensi che sia un dissi quindi non nomino ma comunque non è solo questa persona sono anche altre persone che ho visto cioè oddio così no in realtà però in poche parole ho visto questa persona che faceva un video mukbang dove mangiava degli spaghetti al punto oro se non sbaglio comunque non so come faccia questa persona a mangiare in quel modo ma non è tanto il fatto di fare big bites spesso fare delle forchettate gigante era il fatto che non masticasse ma non è che dici magari ha fatto un po' così poi ha tagliato il video o ha fatto un po' ha masticato così no proprio mandava giù delle forchettate così da riempirsi proprio totalmente la bocca di spaghetti che gli spaghetti sono tutti uniti cioè dovrei spezzarli no li mandava giù in te tutto questo ammalloppo intero e io ero tipo come fa a non soffocarsi cioè io faccio fatica a mandare giù quando mi danno l'antibiotico quello pastiglie che sono delle pastiglie sempre giganti cioè faccio fatica a mandare giù quello che devo spezzarlo a metà e questa persona mandava giù dei blocchi così di spaghetti tutti di colpi cioè wow sono un idolo però non credo che faccia molto bene sinceramente allo stomaco cioè ci hanno creato i denti e si mastica ci sarà un motivo voglio dire però cioè se lo faccio io non digerisco per tre mesi a parte che se lo faccio io mi soffoco perché da piccolo riuscivo a soffocarmi con i mandarini quindi però dettagli ecco io sono un caso speciale comunque ho visto delle persone senza denti non masticare quello ha senso però vabbè non fa bene neanche così però comunque i vicini stanno urlando quindi finisco qui il video spero che ti abbia fatto rilassare e sia venuto bene il video io ti chiedo di lasciarmi un pollice in su se vuoi vedermi mangiare qualcosa in particolare scrivimelo nei commenti o nei direct su instagram sai che rispondo a tutti noi ci vediamo con un prossimo video io ti auguro buonanotte buon relax ciao creatura grazie a tutti grazie a tutti